Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia. Per chiederti i cosospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido finché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma e come a mamma mia. Ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Sia santificato il tuo volere. Venga il tuo regno, la tua volontà. Come il cielo sia gloria nei nostri cuori in terra. Donaci tre panni della vita, nell'infinito eterno immenso tuo volere. Insegnaci il tuo perdono. Insegnaci il tuo perdono, per essere perdono ai fratelli. Donaci tre panni della vita, nell'infinito eterno immenso tuo volere. insegnaci il tuo perdono. Insegnaci il tuo amore, per liberarci dal volere umano. Padre, tu che sei l'amore. Padre, tu che sei l'amore. Tu che sei la vita vera. Padre, tu sei la mia volontà. Dal libro di cielo, volume 20, 25 gennaio 1927. Gesù la spinge a scrivere. Chi vive nel volere divino respira il tutto. L'anima che vive in esso copia Dio in se stessa. E lei resta copiata in Dio. Sentendomi sofferente, mi sentivo incapace a scrivere ciò che il benedetto Gesù manifestava alla piccola sua figlia. Quindi sono stata parecchi giorni senza scrivere e Gesù nel mio interno mi incitava a farlo. Ma io mi rifiutavo a farlo per la grande debolezza che mi sentivo. Finalmente questa mattina, uscendo dal mio interno, mi ha detto La figlia mia questa sera deve scrivere Perché, anche che stia morendo, voglio che dia gli ultimi guizzi di luce forte ed abbagliante delle conoscenze del FIAT Supremo Affinché tutti conoscano che il mio volere l'ha tenuta sempre occupata per sé e per il regno suo E l'ultimo suo anelito non sarà altro che un guizzo forte di luce Che rimarrà come ultimo attestato d'amore e di manifestazione per il regno della mia volontà Perciò, mentre scriverai Io ti aiuterò E la piccola figlia del mio volere non rifiuterà nulla al suo Gesù Ed a quel FIAT che con bontà e amore ti tiene nel suo grembo Per affidarti i suoi segreti Onde dopo di ciò mi sono deciso a scrivere Anche poco Perché il mio dolce Gesù si contenta di tutto Quindi il mio dolce Gesù mi ha detto Figlia mia, chi vive nella mia volontà divina Respira il tutto E siccome il respiro si prende e si dà E senza frapporre tempo in mezzo Si riceve per ridarlo di nuovo Ora, chi respira il tutto che è il Dio Nel rimettere il suo respiro Dà il tutto a Dio Dando Dio a Dio E dà il tutto alle creature Per poi respirare di nuovo Dio E tutto ciò che Dio opera È connaturale che chi prende tutto può dare tutto Solo nel mio divin volere La vita dell'ente supremo È continuamente bilocata da parte delle creature Ed io Mio Gesù Mi sento che faccio nulla E tu mi dici che nel tuo FIAT Prendo tutto E do tutto E Gesù ha soggiunto Figlia mia Quando opera il tutto Il nulla sta al suo posto Solo che si presta a ricevere il tutto E poi non senti in te la forza di questo tutto Che facendoti abbracciare ed invadendo tutto Cielo, stelle, sole, mari e terra Ed abbracciando tutti gli atti del mio FIAT Che esercita in tutta la creazione Te li fa portare come in un solfiato al tuo creatore Per ridargli tutti e tutto C'è stato finora qualcuno che ha dato Ed ha potuto dire Io a Dio do tutto Anche Dio stesso Perché vivendo nel suo volere Dio è mio I cieli sono miei Il sole E tutto ciò che ha fatto questo FIAT supremo è mio Quindi essendo tutto mio Tutto posso dare e tutto posso prendere Ora ne avviene come di conseguenza Che chi vive nel mio volere Tiene il possesso del tutto E questo forma ed affina Il regno della divina volontà sulla terra Perché per formare un regno Ci vuole la forza Della potenza del tutto Dopo ciò si faceva vedere da piccolo bambino La volontà suprema copia l'anima In modo che il tuo creatore Tiene la copia della tua immagine impressa nel suo seno E la tiene tanto cara Perché la vede tale e quale Come la uscì dalla sua origine Nulla ha perduto Della sua freschezza e bellezza I suoi lineamenti paterni Sono impressi in questa copia Questa copia nel seno paterno Le decanta tutta la creazione Con tutte le opere sue Le sussurra continuamente all'orecchio Tutto per me facesti Molto mi amasti e mi ami Ed io tutto Voglio convertire in amore Per te Questa copia è il portento di Dio nel suo seno È il ricordo di tutte le opere sue Questa è la copia dell'anima in Dio È la copia di Dio nell'anima È lo svolgimento della vita divina nelle creature Com'è bello il regno della mia volontà Il nulla sperduto nel tutto Il tutto fuso nel nulla La bassezza delle creature Che si eleva nell'altezza divina L'altezza divina che scende Nelle profondità delle creature Essi sono due esseri avvinti insieme Inseparabili Trasfusi Immedesimati Che a stento si distingue Che sono due vite che palpitano insieme Tutta la magnificenza La santità La sublimità I prodigi del regno della mia volontà Sarà questa La copia fedele dell'anima in Dio È la copia integra e bella di Dio nell'anima Perciò I figli del regno del Fiat divino Saranno tante immagini di piccoli dei nel regno mio Cominciamo la meditazione Come sovente accade Dalla parte finale Dove alcune frasi molto belle Del Signore Oltre che a Illuminare Come sempre In maniera retrospettiva Tutto il discorso fatto da Gesù precedentemente Sono però anche degni in parte Di essere profondamente Contemplate E se Si riuscirà anche di Meditarle un pochino insieme Anche se è difficile aggiungere qualcosa Alla profondità e alla bellezza Di quello che Gesù oggi Annuncia Un'esclamazione Com'è bello il regno della mia volontà La bellezza Tutti noi esseri umani siamo attratti Dalla bellezza Cerchiamo la bellezza E' giusto che sia così La bellezza secondo alcuni Appartiene A quelli che si chiamano i trascendentali dell'essere Cioè ogni ente A partire dall'ente supremo che è Dio In quanto tale È uno È vero Quindi ha una sua verità È buono In quanto tale Ma è anche bello Poi Dio è anche eterno E invece gli esseri creati Non sono eterni come Dio Ecco ma Possedendo l'essere La conservazione dell'essere Ne trasmettono Ne contengono meglio L'eternità in una forma Che potremmo chiamare creata Perché Nulla si crea E nulla si distrugge È vero Nel senso che nulla si crea da solo È ma una volta che Dio ha creato quella cosa Quella cosa Non si distrugge Perché nell'ambito dell'eternità Ha sempre il tempo in cui è stata Nell'essere Che si conserva eternamente Sappiamo benissimo Quelle cose che sono successe Mille anni fa Sono successe mille anni fa Nel tempo che scorre Ma In Dio Semplicemente Sono Come tutto ciò che è L'eternità trascende il tempo No? Comunque non entriamo in discorsi troppo Filosofici E troppo elevati Sotto questo punto di vista Il regno della divina volontà È bello Quindi soddisfa I desideri di bellezza Che noi abbiamo E che Si manifestano poi in tante Forme Alcune lecite Altre un po' meno Nella cura a volte un po' eccessiva Anche che noi possiamo avere Per esempio della nostra persona No? Quindi L'attenzione a Celare i difetti Insomma O a correggerli Anche quelli estetici Ovviamente questo si può fare Entro gli ambiti del lecito Oppure andando oltre Quindi Ma non è questa la sede per Fare approfondimenti Di tipi morali Ma Quando una creatura Ha questa attenzione Non fa altro che manifestare La sua irreversibile Tendenza verso il bello Perché il bello è qualche cosa Che fa parte di noi Fa parte della nostra natura Perché veniamo da Dio E quando una cosa è bella Veramente bella Ne siamo irresistibilmente attratti Dobbiamo pensare molto bene a questa frase Il regno della divina volontà È bello È la cosa più bella che esiste E questa bellezza Se da noi è conosciuta Se da noi è vissuta Deve trasparire Anzitutto in noi E deve anche trasparire nel nostro modo di essere Di relazionarsi Di porsi Non si tratta di un problema estetico Un'anima che vive nella divina volontà Noi immaginiamo La Madonna Com'è la compagnia della Madonna? Ma com'era la compagnia della Madonna Quando lei era Vivente sul pianeta Terra? Com'era fare due chiacchiere In senso buono? Perché la Madonna non faceva chiacchiere in senso negativo Una buona conversazione Con Maria Era una cosa meravigliosa Perché la straordinaria bellezza della Madonna Unica e assolutamente irraggiungibile È proprio dipendente da questa sua Assoluta Piena Ininterrotta Fusione Con la divina volontà Che la faceva bella in tutti i modi Noi dobbiamo pensare Per raggiungere bene Le profondità di questa contemplazione Dobbiamo essere capaci di Di guardarci No? Di guardarci nei nostri modi Nel nostro tratto Nel nostro Relazionarci Nel nostro parlare Nel nostro muoverci Nel nostro gestire Mano a mano che la divina volontà Entra dentro un'anima e la sana E la rinnova Comincia a fuoriuscire Tutta quanta la bellezza Che in parte è intrinseca Noi siamo belli Perché siamo stati fatti da Dio La nostra anima È stata fatta da Dio Purtroppo Sappiamo bene Qual è il dramma Dell'esistenza umana È che gli atti Della nostra umana volontà Hanno Fatto una Continua Opera di Deturpazione Di demolizione Di Abbruttimento Con due T E anche Abbruttimento Con una T sola Quando l'uomo scende Sicuramente quando si è avvolto In certi vizi Nausea bondi Quasi al di sotto Degli animali bruti E quindi Tante volte Ho fatto questo esempio Come Un'opera d'arte Come la pietà di Michelangelo Se uno immaginassimo Che Andasse qualche Vandalo Con i pennarelli Indelebili Con Si buttasse addosso I barattoli di vernice E prendesse un punto e vuole Lo sfregiasse Un martello E cominciasse a spaccare Non lo so Il piede di Gesù Disteso Sulla Madonna Spaccasse il naso All'immagine della Madonna Quindi Cioè Tu Vedendola Uno vedrebbe una cosa Allucinante Quindi un'opera d'arte Deturpata Ma Capirebbe Che dietro Quell'opera di devastazione C'era un'opera d'arte E questa è la storia Di ogni essere umano Vedere Quanto Ecco La volontà umana nostra E anche le volontà umane Di coloro che ci hanno circondato Purtroppo Perché Spezziamo una lancia Anche A favore Delle nostre povere persone Bisogna vedere A che punto è arrivata L'opera di devastazione Ma se si arriva La divina volontà A vivere in essa Nostro Signore È un grande restauratore Quindi Riemerge tutta quanta La bellezza Intrinseca Della creatura Che non è la sua Viene direttamente Da Dio E poi Tutto questo È amplificato Dalla vita di fusione Con la divina volontà Che Gesù Ha espresso In questi termini Veramente Molto belli Molto forti No Immagine L'immagine di Dio È nell'anima E viceversa Anzi L'anima proprio copia In sé La divina volontà E appunto E tiene la copia Quindi dell'immagine divina Dentro di sé E viceversa E La Santissima Trinità È felicissima Di avere questa copia Perché Vede Ritorna a vedere Quello che di bello Ha fatto Come l'ha fatto lui Come l'ha uscito Senza perdere nulla Della sua freschezza È bellezza Quindi Gesù Qui ci sta dicendo Indirettamente Se qualcuno Non ne fosse ancora Consapevole O non ci credesse Che tu sei bello Perché Se nella divina volontà L'immagine Che il creatore Tiene impressa Dell'anima Nel suo seno Nulla Finalmente Ha perduto Della sua freschezza E bellezza Significa che questa Freschezza e bellezza Ce l'aveva Ce l'ha Si tratta Soltanto Di farla Di nuovo Riuscire Fuori Se non si arriva Chiaramente A questo Punto Non stiamo Ancora Dentro Questo Questo Mondo Per esempio Tante volte Si dice che la Santità Delle virtù È cosa Diversa Dalla vita Nella divina volontà Qui a mio avviso C'è uno degli aspetti Di diversità Possibile Se io Vivendo Secondo virtù Quindi La vita Secondo virtù Suppone sempre Un grandissimo Sforzo ascetico Sostenuto dalla grazia Per vincersi Quindi per Debellare i difetti E i vizi Acquisire le virtù E tendere alla perfezione Attenzione che questo Comunque rimane Non è che si toglie Ma se La Santificazione Si limita a questo Che succede? Succede che una persona Fondamentalmente Rimane Diciamo In una condizione Ordinaria Di Non così Evidente E palese Bellezza Ma Nella condizione Miserabile Di noi Poveri figli Di Adamo Che Rimboccandoci le mani A prezzo di Le maniche E a prezzo di Tantissime fatiche Cerchiamo Adesso mi viene La tentazione Di Ad arrabbiarmi Poi mi viene La tentazione Di guardare Quello che non posso Poi mi viene La tentazione Di Fare una chiacchiera Fare una critica Una maldicenza Dentro quanto Questa congedie Perché purtroppo La natura umana Decaduta È un continuo Pullulare Di 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 marciume Più o meno Grande Allora Sta povera Anima Per carità Lodevole E E degna Di ogni Considerazione E rispetto Come un Guerriero In combattimento Sta cercando Di pararsi Colpi Dappertutto Però Parte che si Vede Questa Tensione No E E in ogni Quella 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 Completezza Tale Da renderci copie Viventi Per dire Insomma Di Gesù E Di Maria Nella misura In cui si vive Nella divina volontà Invece Questa Situazione Muta Cioè C'è un'inversione Cioè Mentre c'è Ordinariamente Una situazione Di miseria Imperfezione In cui L'anima Che Apprezzo Di grande Sforzo E di grandi Sacrifici Ogni tanto Ecco Mostra La parte Migliore Di sé Lì c'è il contrario Cioè C'è una condizione Ordinaria Di Di bellezza Di bontà Di pacificità Di serenità Certo Possibile E questo Guai a noi Se non pensassimo Umilmente questo Che ci siano Come si regge In altri posti Insomma Degli scritti No Dei momenti In cui il sole S'oscura Dei momenti In cui qualche nuvola Gli si frappone davanti Quindi Dei momenti In cui Disgraziatissimamente La nostra Perdurante Miseria Perché O il signore Veramente Ci libera Del tutto E ci ripristina Nello Nello stato Dell'Eden Cosa che possiamo Sperare Possiamo sognare Forse sì Da quello che si capisce In certi passaggi Degli scritti Ma fino a quando Questo non avverrà Noi dobbiamo sempre stare Estremamente In guardia Perché Non ci vuole niente Insomma Fare un capitombo È una grande Caduta Pur essendo Come dire Arrivati a un buon punto Anche nella Crescita Quindi nella Progressione Nel perfezionamento Della vita Nel divino volere No Ci siamo fermati Su questa immagine Com'è bello Il nulla Sperduto Nel tutto E il tutto Fuso Nel nulla Queste sono immagini Da contemplare Perché Gesù dice queste cose Perché a un certo punto Luisa Dinanzi ad una Ad una Sorta di Di apologia Di encomio Di Gesù Dicendogli Guarda Quanto è bello Che tu vieni Nel mio volere Lo sai che succede Non senti in te La forza di questo tutto Ti faccio abbracciare tutto E tu li porti in giro Dappertutto Il tuo creatore E fai un sacco di bene E lui si dice Ma scusa un attimo Tu mi dici così Ma a me mi sembra Proprio che non faccio niente Dico Vabbè Se lo dici tu E per questo Gesù dice È corretto Che tu abbia questa reazione Perché Qui si tratta del nulla Fuso nel tutto Non sono operazioni nostre Queste Queste sono operazioni divine Di questa operazione divine Noi Percepiamo Soltanto quegli effetti Tipici Della presenza di Dio Dell'operatività di Dio Che gradualmente Si vedono in noi E traspaiono nella nostra anima Uno È la bellezza Questo è proprio un segno Inequivocabile Cioè Se noi vediamo una bella persona Proprio una bella persona Quindi Una persona E si vede soprattutto Nei rapporti con il prossimo Una persona bella Una persona Propositiva Una persona Sempre allegra Una persona Una persona Serena Una persona Una persona Che non semina veleno Una persona Che non parla male È chiaro Quella è una persona Che comincia ad essere Sicuramente unita a Dio E la cosa Tante volte Che ho evidenziato Perché A mio avviso È Anche evangelicamente fondata È proprio Lo sguardo È il tratto Della persona Gesù dice La lucerna del corpo È l'occhio Se il tuo occhio È tenebroso Dentro di te Ci stanno le tenebre Se il tuo occhio È luce Dentro di te Ci sta la luce E noi Noi li vediamo Insomma Gli sguardi Gli sguardi luminosi Gli sguardi sereni No La comunicazione Come sappiamo È verbale Suona una piccola parte E anche nella Nella comunicazione verbale Per esempio Io adesso Sto parlando No Non conta soltanto Ciò che si dice Ma conta anche Il come si dice Tante volte Ho fatto riflettere Su questo Io posso dire A una persona C'ho bisogno Di un pochino Di spazio Per esempio Levati dai piedi Posso dirgli Oppure Fatti più in là Oppure Scusa Avrei bisogno Di un po' di spazio Oppure Perdonami Gentilmente Potresti farmi Un pochino di spazio Se non ti costa troppo D'accordo Ho detto la stessa cosa Ma Tra Levati dai piedi E l'ultima cosa Che ho detto Ci sta una Bella differenza No Però Ho detto esattamente La stessa cosa Quindi Non è soltanto Quello che si dice Ma è il come Si dice Cioè Quel come Che noi molte volte Trascuriamo Non gli diamo Tanto peso Ma quel come È il segreto Della Della santità E E del vivere Nel divin volere Cioè Pensiamo La dedicatezza Straordinaria Per esempio Che si vede In alcune apparizioni Che ha la Madonna Anche quando Deve Richiamare Correggere Il vocabolario Che usa Io desidererei Mica Dici Io voglio La Madonna Potrebbe dire Io voglio Cioè Potrebbe anche dire Guardate che mi trovi Da retta Insomma Io sto qui Per il vostro bene Quindi Cioè No Io desidererei Vi invito Vi esorto Quindi Con tutta quanta La delicatezza Anche con quella Estrema Umiltà No Eppure lei sta parlando Soltanto per Per il nostro bene Ma Dice Ma se fosse un pochino Più energica Forse qualcuno L'ascolterebbe Non c'è speranza Non c'è speranza Perché Dio è così Ma Dio fa così Anche con noi Nel suo modo Di interagire Con la creatura È sempre mosso Da un profondo rispetto Lui cerca di muovere Delicatamente E attraverso L'amore Le nostre volontà Non ci fa Violenza E costrizione Perché questo Non è un bel modo Di agire Cioè Noi saremmo contenti Se qualcuno Ci facesse Una costrizione Anche per fare Del bene O Saremmo contenti Se una persona Facesse O ci facesse Del bene Solo perché Costretta No Questo non è un modo Di agire Bello E quindi Dio questo Non lo fa Perché Dio fa soltanto Le cose belle Non fa le cose brutte Ecco Le violenze Le schiavitù Sono cose che appartengono Al regno dell'inferno Non sono cose che appartengono Al regno del paradiso Nel regno della vita Ecco perché La schiavitù In quanto tale È assolutamente Contraria Come dire Alla volontà di Dio E alla dignità Dell'uomo Ecco Ci lasciamo Con queste immagini Bellissime E con l'immagine Conclusiva I figli Del regno Del fiat divino Saranno Tante immagini Di piccoli dei Nel regno mio Cioè Saranno copie di Dio Copie viventi Dell'altissimo Copie viventi Della Madonna La Madonna è così bella Perché è la copia vivente Dell'altissimo È proprio la fotocopia Evidentemente in forma creata Cioè C'è un abisso Tra la pur immensa Grandezza della Madonna E la Santissima Trinità Un abisso incolmabile Ecco Ma c'è anche un abisso Tra la Madonna E tutte le altre creature Perché Pur avendo uno statuto Evidentemente Di Ente creato Perché ce lo ha anche lei Però L'ininterrotta fusione Con la divina volontà Dal concepimento All'ultimo istante Della sua vita terrena È chiaro che ha Prodotto un capolavoro Perfettissimo Non è possibile Trovare In Qualche cosa Di creato Ecco Una Somiglianza Con Dio Tanto grande Quanto ce l'ha La Madonna Ecco perché Anche conoscere La Madonna Amare la Madonna E approfondire Bene La figura Della Madonna È un formidabile Strumento Non solo Di santificazione Ma anche Di Aiuto Per vivere Meglio Nella divina volontà Perché lei Ne è Proprio L'espressione Perfettissima E quindi Essendosi Anche mostrata In tante circostanze Quindi fatta percepibile In tante forme In tanti modi A noi possiamo Avere tanti aiuti Per Percorrere Come lei Al suo seguito Insomma Con il suo aiuto Il suo stesso Magnifico Cammino Il reno Della divina volontà È bello Santa Vergine Maria Come sei bella tu Ricordiamo Al termine Di questa meditazione Avvolgendo Il tuo sguardo A te Quel bellissimo Canto Bella tu sei Qual sole Bianca Più della luna E le stelle Più belle Non sono belle Al pari di te No Noi sappiamo Il segreto Della tua bellezza Con la tua Super somiglianza Con Dio Che si è espressa E questo Dobbiamo sempre Ricordarlo Perché la vita Nella divina volontà È vita di amore È vita di amore Conosciuto E ricevuto Da Dio È vita di amore Vissuto Ininterrottamente In relazione Con Dio E con il prossimo La tua famosa frase Sono bella Perché amo Amate Sarete Tutti belli Come me Dovrebbe Sempre risuonare Ed è una Magnifica Chicca conclusiva Di questa meditazione Amate Sarete tutti belli Come me Il regno Il regno della mia volontà È bello Perché È il regno Dell'amore Nell'amore Non ci può essere Niente di brutto Quando è vero Amore Nella divina volontà Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria